ovviamente c'è proprio, c'è senta mia, bello, mi rilasso a parlare con te così, vedi, non posso fare un più, è una cosa che nasce spontanea no, 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 è vero io mi sono messo a allenarmi qua, quando siamo arrivati, già ci conoscevamo due giorni, avevamo parlato, voi sapevate che io ero uno sportivo e che mi allenavo seriamente, questo è mio sollevato seriamente sei molto sicura di lui, capito, cioè tu lo tieni bello in pugno, perché ha un ragazzo di 20 anni, io può dire, a me ha 30 anni, te capisco, ma nel senso tu, a lui ce l'hai così, lui a te da così grazie